Sono stati attimi di paura e di dolore quelli vissuti da un operaio di 60 anni che durante l'attività è rimasto incastrato con gli arti inferiori tra un rullo trasportatore e le staffe in acciaio di un macchinario. L'infortunio sul lavoro è successo questa mattina alle 9.30 alla Metalplex, una ditta specializzata nella lavorazione del legno situata nella zona di chiusa di Ginestreto in provincia di Pesaro e Urbino. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Pesaro che hanno estratto l'uomo dalla struttura e lo hanno affidato alle cure dei sanitari. Poco distante è atterrata l'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il sessantenne, che ha riportato uno schiacciamento alla gamba sinistra e alcune ferite all'altra, è rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Ora le indagini in fase di accertamento sono gestite dagli ufficiali di polizia giudiziaria dell'Asur.